Sono contenta di dire che anche quest'anno siamo qui per presentare novità Volotea da Napoli, quindi quattro nuove tratte che portano Volotea a servire 17 destinazioni di lena dal nostro aeroporto. Questo vuol dire che in soli tre anni loro annunciano per l'estate 2017 un network di 17 destinazioni che vuol dire che sono diventati il secondo vettore di linea in termini di destinazioni di linea servite. Di queste sette sono destinazioni nazionali e in questi termini loro addirittura sono il primo vettore, cioè la prima compagnia in termini di numero di destinazioni domestiche offerte da Napoli e sono il secondo se guardiamo l'intero network internazionale. Quindi evidentemente una crescita importantissima in pochi anni, da 0 a 17 in poco più di tre anni, servendo dei mercati che fondamentalmente rappresentavano un gap, quindi un'esigenza, una domanda che veniva dai nostri passeggeri che loro stanno soddisfando in maniera sempre più completa.